Musica Mi chiedo solo una parola ma una per definire questo Peter Una grande impresa mi verrebbe da dire Una grande scuola per gli amministratori, per i tecnici Una grande opportunità per lavorare meglio in futuro Per me il Peter è l'aventura insieme Completa Per me è la coerenza di una strategia globale per il territorio Per me è di sviluppare dei modelli per poterli riprodurare in tutto a l'altra zona trasfrontaliere Collaborativo Molto interessante e pieno di perspectivi per l'aventura per il nostro territorio trasfrontaliero Un'occasione di perseguire con forza e tenaccio Non, 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 projet, un réseau Una volontà di creare delle condizioni per che questo territorio diviente una destinazione intelligente in avendo una porta d'entrì sul settore del turismo che è il motore dell'economia di queste valli delle montagne, delle valli delle Alpe Ebbene diciamo che Peter è per me un'opportunità di lavorare in collaborazione con i nostri partenari italiani Innover per il territorio, per ses habitanti e a partir di risorse che sono grandi perché sono dimultiplici per la frontiera e per la diversità ma è comunque il stesso territorio C'è la convergenza delle aspirazioni di una popolazione dove la vita e il lavoro sono condizionati nella montagna per rendere più efficaci, più comprensibili e più amene Futuro Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti